I toscani amano leggere più del resto degli italiani e lo conferma anche quest'anno la presenza della regione al Salone del Libro di Torino, dove è stato lanciato il patto per la lettura che mette insieme i soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione del libro e della lettura, con alleanze tra biblioteche, librerie, editori, scrittori, associazioni, scuola e università. Nello specifico è stato spiegato i dati di lettura sono già superiori al 41% nazionale e un ulteriore aumento dal 44,2% al 46,4% si è registrato nell'ultimo anno. Anche la spesa per la cultura vede la Toscana sul podio dopo Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna con 165,50 euro a famiglia. Il patto lanciato al Salone del Libro, ha spiegato la vicepresidente della regione, intende consolidare questa tendenza, rafforzando il ruolo delle biblioteche pubbliche e scolastiche e sostenendo le professioni del libro. Il percorso intanto è già iniziato, con gli investimenti per le biblioteche pubbliche e le 12 reti documentarie toscane, con il bando sui progetti per la bibliodiversità, i servizi di prestito in 13 lingue straniere e le iniziative per i potenziali lettori in ambienti come carceri e ospedali. Prossimo appuntamento dopo Torino a Firenze per la firma del patto con tutti i soggetti coinvolti.